Cambio di vertice per l'arma dei carabinieri di Pesaro e di Fano, che viene ufficializzato con la presentazione dei due nuovi comandanti, rispettivamente il colonnello Maurizio Petrarca ed il tenente Giuseppe Esposito. Vicinanza al territorio, attenzione al riciclaggio e prevenzione sono i tre punti focali del loro discorso. Di questo territorio, diciamo, caratterizzato dalla presenza di una popolazione molto cordiale ed accogliente, che rende questo territorio sicuramente accogliente, bello e ho notato anche molta vivacità sotto il profilo economico e questa è una cosa su cui bisogna porre l'attenzione perché un testuto economico così florido, così ricco, potrebbe essere anche, diciamo, nelle mire di associazioni criminali che hanno intenzione magari di riciclare capitali provenienti, diciamo, da attività illecite. Per il resto, ho notato che il territorio è molto vasto e sicuramente per porre in essere un efficace controllo del territorio bisognerà lavorare molto ma io in ciò sarò coadjuvato dai miei comandanti di stazione che sono dislocati capillarmente su tutto il territorio di Pesaro nonché dal nucleo operativo radio mobile che assicurerà il primo intervento al verificarsi di episodi delittuosi di qualunque natura. Sguardo puntato poi sul parco Miralfiore e le zone limitrofe o similari soggette a fenomeni di spaccio e microcriminalità. Saranno degli obiettivi che ci porremo, diciamo, per cercare di porre in essere delle azioni, diciamo, dei servizi sicuramente a largo raggio mediante i quali cercare di prevenire e reprimere tutte quelle forme di illegalità diffusa che caratterizzano questi posti, diciamo. Visione simile della città anche per il neocomandante di Fano che pone la prevenzione come parola d'ordine. Una città sicura, una bellissima città, ho conosciuto le autorità locali e insomma abbiamo iniziato questa nuova avventura. Stiamo intensificando i servizi di prevenzione per contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani, incontreremo le persone vulnerabili in incontri che faremo nel territorio e sicuramente quello che accrescerò è la presenza e la vicinanza ai cittadini per verificare quali sono i loro bisogni, le loro necessità e quindi aumentare il grado di percezione e di sicurezza. Grazie. 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 Grazie.